segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te maschile e altrimenti fuori di lì io non ti capisco ragiona ma non è che non ragiona la donna sei tu che sei limitato hai un solo tipo di intelligenza ti regoli solo su quello e quando uno ne usa un'altra magari più utile in quella circostanza tu non la capisci non è pazza e oggi più di te mi ha colpito un'intervista che siete realizzata dal corriere in cui i genitori di filippo turetta dicono io lo cito testualmente non siamo una famiglia patriarcale dovevamo preoccuparci forse perché dormiva con un orsacchiotto e anche qui diciamo è chiaro che siamo di fronte ai genitori di una persona che accusata di uno dei delitti più efferati che si possano commettere ma come vanno lette queste queste considerazioni secondo lei ma questi poveri genitori perché sono poveri anche loro e tendiamoci avere un figlio che avrà un esito carcerario non semplice è un problema che per quella famiglia e quindi si attaccano tutto quello che può sembrare un processo giustificativo dire che non sia una famiglia patriarcale non vuol dire proprio niente magari sono patriarcale anch'io nel senso che ho quella mentalità che mi è stata reeditata vorrei fare solo un esempio nel primo novecento malinovski è andato nelle isole di trobriand dove si pensa che i figli nascono dal corpo della donna senza contributo fisiologico del maschio alla domanda di malinovski a queste donne a chi assomigliano i vostri figli tutte rispondevano al padre eccolo qua che è aristotele dice che la donna fornisce la materia l'uomo la forma ma anche nella cultura cristiana la madonna fornisce la materia e gesù dice io sono tutt'uno col padre capite queste forme qui quando sono dentro nella testa e costituiscono il modo di pensare abituale è ovvio che tutti quanti siamo un po patriarcali perché veniamo da quella storia lì veniamo da quella e ma solo che le donne l'hanno scombusolata le donne